Da domani il costo di diesel e benzina tornerà a salire, oggi dunque per risparmiare chi ha potuto ha scelto di fare il pieno. Un'occasione per cui dovevo già farlo, ho letto sul giornale la notizia e ho detto vado stamattina al posto che domani. Un po' mi preoccupa perché c'è un motorino, un cinquantino, consuma poco, però comunque è un costo che va tenuto in considerazione anche per me che sono uno studente che non ha un reddito fisso. Quanto ti costa fare il pieno al motorino? Pre pandemia meno di 10 euro, adesso siamo arrivati anche a 12-13. Da domani lo sconto sui prezzi dei carburanti si riduce quasi dimezzandosi. Le accise sulla benzina passeranno infatti a 578,40 euro fino al 31 dicembre 2022, mentre quelle su oli da gas o gasolio usato come carburante, e cioè il diesel, passeranno sempre fino a fine anno a 467,40 euro per mille litri. Si passa così dall'attuale taglio di 25 centesimi, che comprensivo di IVA equivaleva a uno sconto al distributore di 30,5 centesimi, ad un taglio di 15 centesimi, che con l'IVA si tradurrà a dicembre in 18,3 centesimi in meno. Domani il prezzo della benzina e del diesel si rialzerà. Ah sì? E' tanto per cambiare, ormai è normale che si aumenta sempre. Stiamo facendo adesso il pieno per questo, perché domani il bonus del governo mi sembra che salga a 18 anziché 30, giusto? E quindi oggi si risparmia? Un pochino, poca roba. Che cosa ne pensa di questi rincari ulteriori? No, dico che portano la rovina dell'economia italiana, perché con la benzina alta e l'energia alta molti chiudono, per cui ci sarà tanta disoccupazione. E oggi tra i clienti non mancano neanche quelli svizzeri che cercano la convenienza oltre confine. Costa molto di più in Svizzera. E quindi lei viene sempre in Italia? Adesso in questi periodi, sì, finché non mettono a posto le accise che costano di più, dove costa meno vado. Quanto risparmia venendo qua? Adesso sui 25-35 centesimi.